Alghe nori, una risorsa nutrizionale per la tua salute. Le alghe nori, note per l'uso nel sushi, sono un tesoro di nutrienti. Originarie del Giappone, queste alghe marine sono ricche di proteine, fibre, vitamine e minerali, indispensabili per una dieta equilibrata. L'alto contenuto di proteine nelle alghe nori le rende un'ottima fonte di energia. Sono perfette per chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano, fornendo un'alternativa completamente naturale alla carne. I minerali presenti nelle alghe nori, come il ferro e il calcio, contribuiscono al mantenimento di ossa e denti sani. Il loro consumo regolare può aiutare a prevenire l'osteoporosi e altre malattie correlate all'invecchiamento. Le vitamine B presenti nelle alghe nori svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo energetico. Possono aiutare a mantenere la pelle sana, migliorare la vista e favorire la formazione di globuli rossi. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. Le alghe nori contengono una quantità significativa di acidi grassi omega 3. Questi acidi grassi essenziali aiutano a mantenere sana la nostra funzione cerebrale e a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Il contenuto di fibra nelle alghe nori è molto alto. La fibra aiuta a regolare il sistema digestivo, a mantenere stabile il livello di zucchero nel sangue e a ridurre il colesterolo. Le alghe nori contengono anche iodio, un elemento essenziale per il corretto funzionamento della tiroide. Un consumo regolare può aiutare a prevenire disturbi della tiroide. Le proprietà antiossidanti delle alghe nori aiutano a combattere i danni causati dai radicali liberi. Questo può contribuire a rallentare il processo di invecchiamento e a rinforzare il sistema immunitario. Nonostante i numerosi benefici, esistono anche alcune controindicazioni legate al consumo di alghe nori. È importante consumarle con moderazione per evitare un eccesso di iodio che potrebbe portare a problemi alla tiroide. Inoltre, le alghe nori possono contenere tracce di metalli pesanti a causa della loro origine marina. È importante acquistarle da fonti affidabili per garantire la loro sicurezza. Le persone allergiche ai frutti di mare dovrebbero evitare il consumo di alghe nori, in quanto potrebbero causare reazioni allergiche. Nonostante queste controindicazioni, le alghe nori rimangono un alimento pieno di nutrienti che può portare numerosi benefici alla nostra salute. Incorporare le alghe nori nella tua dieta può essere un modo semplice e delizioso per aumentare l'apporto di nutrienti essenziali. Che tu decida di utilizzarle nel sushi o in altre ricette, le alghe nori sono sicuramente un alimento da considerare. Ricorda, tuttavia, che come per ogni alimento, è importante consumare le alghe nori con moderazione e in un contesto di una dieta equilibrata e variata. Scopri le meravigliose proprietà delle alghe nori e falle diventare parte della tua routine alimentare. La tua salute ti ringrazierà. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.